parola d'ordine cristallo accesso negato ippocampo accesso negato way what about you accesso garantito benvenuti a una puntata speciale su blogos web radio oggi siamo a sasso marconi per intervistare manuel mesoraca detto meso uno degli educatori del centro di aggregazione giovanile casa papinski nel corso dell'intervista scopriremo perché il centro si chiama così le attività che offre e vi daremo un'anticipazione delle novità di quest'anno cominciamo chiedendo a manuel quando nasce il centro e l'origine del nome il centro giovanile casa rapinski è stato aperto nel settembre del 2002 il nome è stato trovato tramite un concorso che è stato fatto presso l'istituto comprensivo di sasso marconi ufficiosamente possiamo dire che un ragazzo che conosciuto qualche anno fa mi ha detto che il nome l'ha scritto lui ma partecipato a questo concorso il nome l'ha dato lui e secondo quello che mi ha detto lui però io non posso confermare perché non sono poliglotta e papinski significa cretino in in polacco quali sono le attività che si svolgono e a chi sono rivolte allora le attività sono rivolte diciamo a tutti chiaramente non c'è una una chiusura una diciamo dal dai ragazzi 11 anni fino ai 25 25 anni diciamo che noi prendiamo tutti le attività sono varie quindi vanno dalla dalla sala prove dove appunto è possibile provare con il proprio gruppo anche da soli e fino a attività artistiche quindi laboratori artistici di aerosol art pitture morali tutte queste cose qui ricordiamo inoltre l'attività ormai che ci rende famosi in tutto in tutta la provincia del video contest quindi lavoratori video e la guarda radio che presto si vedrà impegnati con una redazione diciamo periferica di radio bloggers ci sono delle collaborazioni con le scuole soprattutto con l'istituto comprensivo di sasso marconi perché raccoglie parecchi parecchi ragazzi e l'unica scuola superiore che abbiamo presente sul territorio è questa che abbiamo proprio qua davanti al papinski che è l'istituto ferrarini l'istituto agrario e quindi parecchi ragazzi dell'agrario passano da qui quando c'è nei pomeriggi o partecipano a delle nostre attività vedi il video contest quali sono le vostre novità per quest'anno di attività al centro giovanile le novità sono parecchie cioè oltre ai corsi che ormai appunto ci sono già da tanti anni tipo il video contest e quelle cose lì e abbiamo avremo l'intenzione di fare un corso di parkour perché vediamo che è una cosa sempre più richiesta e poi vabbè il classico che ormai abbiamo già detto laboratori video e il ceneformula web radio e il calcinski che ormai ci vede da tanti anni ormai impegnati e un'altra novità è il laboratorio di GJ7 che non siamo riusciti mai a farlo partire quest'anno visto che ci sono ragazzi che si interessano di musica elettronica così quindi speriamo di fare anche il laboratorio di GJ7 parlaci un po' della tua esperienza di educatore al papinski da quanto tempo ci lavori e quali sono i progetti per il tuo futuro per che ti piace fare l'educatore qua? Io lavoro al papinski super giù dal 2003 prima ero un ragazzo che veniva qua a suonare e poi dopo insomma mi sono interessato di educazione mi sono iscritto all'università prima o poi la finirò quindi diciamo che sì dal 2003 che è basico qua dentro mi appassiona mi piace stare in mezzo ai giovani quindi questo è un lavoro che ti dà la possibilità di stare insieme ai ragazzi e ti dà anche secondo me anche molte soddisfazioni progetti futuri sono tanti sia qua al papinski ma anche in altri settori dove lavoro se faccio una domanda e si rispondo da solo ma i sogni aiutano a vivere? la vita è un sogno per me la vita è un sogno ecco perché dovete venire al papinski perché c'è Manuel ringraziamo Manuel per la sua simpatia e la sua disponibilità quindi a questo punto non vi resta che venire a visitare il centro papinski che è in via ponte albano 41 a sasso marconi aperto lunedì mercoledì venerdì dalle 15 alle 19 per contattarlo sul web potete trovarlo all'indirizzo papinski chiocciola officinedistrada.it sul sito www.officinedistrada.it o su facebook digitando casa papinski questa intervista è stata realizzata da Martina, Ilaria, Luca e Alberto durante il workshop della blogoswebradio ilblogos.it grazie a tutti